Un centro multiservizi allestito in un bene confiscato alla criminalità e ristrutturato con fondi regionali sarà messo a disposizione dal Comune per l'accoglienza dei rifugiati che vivono sul territorio. È l'oggetto del protocollo firmato questa mattina tra il sindaco Gaetano Manfredi e la rappresentante per l'Italia dell'Agenzia ONU per i rifugiati Chiara Cardoletti che istituisce uno spazio comune con percorsi di inclusione e programmi di accompagnamento per facilitare l'accesso ai servizi. L'idea è quella di permettere appunto in questo centro di avere dei servizi di base quali la sanità, l'accesso al lavoro eccetera e che mirano a aiutare i rifugiati nelle loro vulnerabilità, nelle loro necessità. Una bella giornata perché la gestione dei beni confiscati partono da indagini, partono da sequestre e confische ma il ciclo si deve chiudere con la restituzione alla collettività. Ai rifugiati presso la struttura che sarà inaugurata ad aprile in via Vespucci si vuole garantire sicurezza, assistenza nelle principali procedure burocratiche e nell'accesso all'istruzione e alle opportunità di lavoro. È un'attività che l'amministrazione promuove con enti territoriali e soggetti del terzo settore, già avviata con l'emergenza ucraina e proseguita nell'ottica di offrire a queste persone un'accoglienza stabile. Dobbiamo andare verso la regolarizzazione, tutti i fenomeni di irregolarità sono fenomeni che poi ricadono sulla sicurezza, ricadono sulle condizioni di vivibilità della nostra città. Quindi un lavoro congiunto con tutte quelle che sono le istituzioni, con la questura, con la prefettura per fare in modo che questi processi di inclusione e di regolarizzazione siano i più rapidi possibili. Usare un bene confiscato, dare la possibilità a tutte le organizzazioni che fanno parte, oltre all'UNHCR, ma che fanno parte dei temi sull'immigrazione e sui rifugiati, una casa. Un posto dove insieme possono condividere le strategie, mettere sul tavolo i propri servizi e collaborare con tutte le istituzioni. È un passo importantissimo che ci dà la possibilità poi di strutturare anche servizi di accoglienza, di integrazione sociale, di inserimento lavorativo e di accompagnamento.